Musica Campo Scuola News, siamo quasi al termine, ora stiamo sistemando le camere in vista della partenza domani mattina questa camera è ancora in risistemazione, di fatto l'odore è un po' pungente, mi sa che c'è un cadavere in putrefazione adesso scendiamo e andiamo a vedere come si comportano gli altri ragazzi del campo ecco qua, ecco qua Matilde che sta aspirando la parte dell'università della casa Matilde come va? cosa stai facendo? Stavo a un pezzo finiti di aspirare è quasi tutto, grazie Matilde e buona serata Francesca e Federica, portami lo sporco e siamo quasi alla fine Ragazzi, le buizie sono a posto? Sì, la casa è con un mare estremente Ciao 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 Campo Scuola Grazie a tutti.